Il Monte San Savino Festival entra nel vivo. 130 studenti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero stanno seguendo la Masterclass e animano il cuore antico della città. Chiese, teatri, piazze, antiche dimore che vedono giovani talenti seguire Masterclass di grandi musicisti. Il Festival infatti offre un'offerta didattica unica e di alto profilo e concerti di grande fascino. Domani, sabato 29 luglio alle 21.15, nella centrale Piazza Gamorrini è in programma il concerto dell'Orchestra Gams Ensemble, diretta dal maestro Wolfango Dami, che straordinariamente ospiterà anche alcuni talentuosi studenti delle Masterclass in una esibizione con musiche di Haydn e Mozart. Un sabato speciale per il Festival e per la città di Monte San Savino, in quanto assieme al concerto sul palco di Piazza Gamorrini, verranno assegnate le borse di studio per i migliori studenti offerte dalla famiglia Paturzo e dedicate alla memoria del maestro Franco Paturzo, fondatore del Festival Savinese. Questo progetto Music Club nasce appunto dall'idea di noi docenti che siamo interni alla scuola Cappetti e anche del nostro direttore Sebastiano Maccarini, con l'idea appunto di creare un qualcosa che potesse collaborare insieme i ragazzi, che hanno assolutamente accolto l'idea con enorme entusiasmo, abbiamo allievi che vengono proprio dalla nostra scuola ma anche altri che vengono da fuori, quindi è stata un'occasione molto, ed è un'occasione molto importante per coinvolgerli tutti insieme. Appunto, come abbiamo detto, questo progetto si concluderà con un concerto che faremo nel Chiostro del Comune e speriamo di vedervi numerosi. L'organizzazione ha funzionato perfettamente, stiamo lavorando già dal lunedì pomeriggio praticamente a ritmi serrati facendo 9-10 ore di lezione al giorno e ci sono diversi allievi provenienti anche dalla California e gli ambienti sono ben tenuti e tutto sta funzionando a meraviglia. Grazie.